Buongiorno, sono Lorenzo Costa e siete all'azienda agricola La Scoscesa che si trova a Gaiola in Chianti nella frazione di Lecchi in Chianti. Siamo nella zona del Chianti Storico e La Scoscesa è un progetto che nasce 4 anni fa, diciamo 5 anni fa, è un progetto di azienda agricola che applica una progettazione in permacultura come progettazione sistemica aziendale. Applica poi un approccio agroecologico e un approccio di agricoltura rigenerativa come tecniche che noi utilizziamo in azienda. È un'azienda agricola che si sviluppa su 9 ettari di terra interamente terrazzati e per metà possiamo dire boscata, comunque con un bosco preesistente a base di querce e ginepri in massima parte. L'altra parte invece è un vecchio oliveto abbandonato da oltre 40 anni che noi abbiamo recuperato in questi 4 anni. Io sono di formazione storico contemporaneo, lavoro all'Università di Siena come tecnico a farmacia, quindi diciamo ho cambiato un po' nella mia vita e 5 anni fa ho deciso di diventare contadino. Mi sono messo a studiare e la progettazione ecologica con la permacultura è quello che mi ha dato la possibilità di immaginare questa azienda come sistema. La permacultura nasce negli anni 70 in Australia, è un sistema di progettazione in cui l'obiettivo è quello di progettare sistemi umani sostenibili, efficienti, resilienti e stabili. È la crasi di due parole permanent culture, tradotto in italiano con permacultura, ed è un sistema che in realtà può essere applicato a molti ambiti differenti. Uno dei suoi ambiti classici di applicazione, di implementazione e all'interno di ambiti agricoli rurali. Che cosa vuol dire progettare in permacultura? Vuol dire di fatto progettare in relazione al paesaggio, al contesto specifico in cui noi andiamo ad intervenire, progettare l'uso di tutte quelle energie, quelle risorse che noi troviamo nell'azienda, nel sito dove andiamo a progettare, ma vuol dire anche progettare un'azienda che è inserita in un territorio, per cui in realtà non lavoriamo solo sull'ambito aziendale, ma lavoriamo su una rete di connessione all'interno del territorio, quindi in questo caso gaiola e inchianti, per costruire un sistema complesso. Partiamo dalla progettazione in permacultura, si parte da tre etiche, cura della terra, cura delle persone e cura del futuro, che vengono utilizzate come base fondante per la progettazione. Da lì ci sono dei principi progettuali, delle strategie progettuali, che sono appunto tra l'analisi delle zone all'interno di un'azienda, quindi anche i flussi, i processi, come si inseriscono all'interno dell'azienda, e poi c'è un'analisi di quelle che sono le energie e le risorse, inteso come energie sono l'energia solare, quindi l'esposizione e quanto sole, come arriva l'energia solare sul terreno, e poi soprattutto la gestione dell'acqua, la presenza dell'acqua all'interno del terreno, e il lavoro molto interessante sui microclimi. Un terreno terrazzato come questo qua alla scoscesa, dove noi abbiamo 130 metri di dislivello fra la parte più alta e la parte più bassa dell'azienda, e dove abbiamo tutti i muri a secco, ti permette di giocare, uso questo termine che mi piace l'idea, perché bisogna anche un po' divertirsi, anche se si fa i contadini, anche se si fa progettazione, di giocare sui microclimi, perché ogni terrazzo, ogni terrazzamento, ogni mura secco genera un microclima differente. Per farvi un esempio, quando qui a gennaio ci sono a Lecchi inchianti, alla frazione che è qui a 200 metri, meno 8 gradi, qua ce ne sono zero, abbiamo 8 gradi di differenza, proprio per la tipologia di esposizione, la maggior parte del terreno esposto a sud-est, quindi un'esposizione favorevole, però immaginate anche il contrario, quando d'estate ci sono 35 gradi, ne abbiamo 42-43, perché? Perché il mura secco, la presenza di tantissima roccia madre affiorante, per la tipologia di geologia che ha il Chianti, che ha una geologia molto giovane, quindi la roccia madre è molto affiorante, fa da massa termica, d'estate scalda molto, e che cosa succede? Ci ritroviamo il fatto che questa massa termica rilascia calore, quindi devi anche adattare la tipologia di interventi agricoli che vai a fare in un certo modo ben preciso. Che cosa succede? Noi abbiamo una stagione più lunga, fin verso l'autunno, in campo aperto, perché abbiamo tutta la massa termica che rilascia calore, e però poi ovviamente questa massa termica ce la ritroviamo d'estate e che crea una serie di problematiche. Quindi la progettazione in permottura applicata in un'azienda agricola qui alla Scoscesa è stato il ragionare in modo sistemico su quello che noi, sul tipo di intervento che noi andavamo a fare. Allora, all'interno dell'azienda agricola alla Scoscesa, proprio partendo da quella che era la progettazione in permacultura, l'etica della cura della terra, Earthcare, era centrale nel nostro approccio a livello di intervento agricolo, che poi si inserisce in tecniche di agricoltura rigenerativa e di agroecologia. E quindi parliamo proprio di quello che è il nostro approccio al suolo. Il suolo noi lo vediamo non come semplicemente il substrato dove le piante, che siano alberi annuali come verdure dell'orto, oppure piante perenni su cui noi lavoriamo, come il supporto dove queste piante crescono. Ma è quella parte di suolo vivo su cui noi andiamo a intervenire, per cui noi lavoriamo in due modalità. Una nella parte di orticoltura con delle aevole permanenti, che non vengono lavorate rigirando gli strati del suolo, ma inserendo una serie di compost, una serie di terricci che noi in parte autoproduciamo. E nell'altra parte invece, per quanto riguarda tutto l'intervento su piante perenni, che siano da frutti di bosco a alberi da frutto, interveniamo con sempre l'aggiunta di una serie di compostaggi che noi facciamo qui in azienda. Qui possiamo vedere c'è un cumulo di cippato. Questo è cippato da potature di olivo fresche che sono state fatte ora da aziende agricole nella zona, accanto a noi ci sono delle olivete, sono aziende agricole biologiche e loro ci portano, le loro potature fatte durante la raccolta da noi vengono cippate. Questo cippato di olivo verrà ora coperto con questo telo di plastica, un telo da insilato, viene inoculato con una serie di microorganismi, batteri e funghi che noi recuperiamo e che catturiamo qua all'interno dell'azienda, viene fatto diciamo precompostato e poi distribuito alla base degli alberi da frutto. I microorganismi che noi catturiamo sono basati su un approccio agricolo specifico che è quello del KNF, Korean Natural Farming, agricoltura naturale coreana, che è un sistema di approccio in cui si ragiona sul suolo come parte viva, con cui la pianta interagisce. Ci sono varie preparazioni che noi abbiamo studiato, noi applichiamo l'agricoltura naturale coreana in un modo specifico e molto preciso da due anni, anche perché spesso cosa succede nelle aziende agricole? Si applicano diversi approcci, mischiando diversi tipologie di interventi. Noi invece abbiamo scelto questa tipologia di intervento e su quello ci stiamo basando. Ci sono vari tipi di preparazioni che si fanno, l'agricoltura naturale coreana ha come visione sul suolo anche quella di abbassare i costi di gestione dell'agricoltura perché mette l'agricoltore, l'imprenditore agricolo nelle condizioni di prepararsi la maggior parte di quelli che sono gli ammendanti, i fertilizzanti o comunque una serie di preparati che vanno a essere utilizzati in azienda. Il primo approccio che noi facciamo è quello della cattura dei microorganismi indigeni, infatti la preparazione si chiama IMO, indigenous microorganisms e sono quattro fasi. La prima fase è la cattura nel sottobosco, nella lettiera di bosco, noi lo facciamo con questo che è un coso di bambù per cuocere i ravioli, con del riso semibollito, noi lo mettiamo una settimana a contatto con la lettiera di bosco, questo riso viene inoculato, viene catturato, una serie di microorganismi, batterie e funghi e di muffe. Dopo questa settimana di cattura, quando vediamo che si è creata una nuvola bianca, proprio sopra il riso, questa è la fase 1, si chiama IMO 1, dopo di questo c'è la fase 2, questa è la stessa quantità di riso messa, e questa è l'unica cosa che si acquista, a parte il barattolo, che è riutilizzato, è lo zucchero di canna grezzo, noi mettiamo la stessa quantità di riso con lo stesso peso e volume di zucchero di canna e questo è IMO 2, che può durare più di un anno, questo dura un anno e di fatto cosa succede? I micro-organismi e i batteri si nutrono di zuccheri, gli hai dato una tale quantità di zuccheri che li mandi in stasi, loro non riescono, stanno lì, rimangono qua pronti per essere utilizzati, questo IMO 2 si può utilizzare in fase liquida come trattamento fogliare per le piante, sia orticole che piante da frutto, alberi da frutto. La fase successiva dell'IMO 2 è metterlo in acqua e bagnare della crusca o della pula di grano o di riso, i coreani usavano il riso, noi usiamo il grano, abbiamo un mulino che ha uno scarto qua a Montevarchi, ci dà tutta la pula di grano, noi facciamo dei lotti di IMO 3 da 200-300 kg che mischiamo, rimane una settimana e poi viene mischiato dopo quella settimana con il suolo del nostro terreno, quindi di fatto prendiamo come substrato il suolo del nostro terreno e questo è IMO 4, il terreno viene interamente inoculato da microrganismi, queste piccole cose si vedono bianche, sono i microrganismi che hanno inoculato tutto il terreno, questa parte qui viene poi sbriciolata sull'aiuole o alla base degli alberi da frutto ed è di fatto un concentrato di microrganismi, di funghi e di batteri ma indigeni, quindi legati alla tipologia di suolo, legati alla tipologia di minerali, di nutrienti che sono presenti in questo suolo. Applicandolo da due anni vedremo magari dopo un'immagine di un lotto dove si vede dove l'abbiamo applicato e si vede la differenza di crescita proprio dei sovesci che noi stiamo utilizzando ora all'interno dei lotti dell'orto. Questo approccio qui è un approccio che porta al fatto di ragionare sul suolo come parte viva e integrante del nostro intervento agricolo. Poi ovviamente su questo noi facciamo tutta una serie di interventi che sono quelli di lavorare con sovesci, con tutti i sovesci fatti in base alla tipologia poi di semina o di produzione che andremo a fare, per cui ora abbiamo dei lotti che andranno trapiantati a fagiolini l'anno prossimo, ora abbiamo messo della senape e non abbiamo messo delle leguminosi come piante perché in questo modo qua andiamo proprio a intervenire per la tipologia di produzioni che noi avremo. tutto questo vuol dire anche fare una programmazione su quello che tu hai a coltivare e sul modo in cui tu lavori sul suolo. Questo approccio è interessante perché non è in funzione della pianta, cioè noi non ragioniamo nel fatto di dare nutrienti alla pianta, noi ragioniamo sul fatto di dare nutrienti al suolo, ricreare una fertilità, uno strato, una parte di quella che sarebbe la rizosfera di microrganismi, di batteri vivi, a cui la pianta poi andrà a connettersi, perché in realtà le piante non vivono, non si nutrono solo della parte di chimica inorganica, dei sali diciamo che noi ragioniamo, N, P, K, ma in realtà si entrano in relazione con tantissimi altri microrganismi, batteri e funghi, che sono quelli che in realtà fanno resistere alla pianta a una serie di stress che possono essere le alte temperature, la parte di periodi di siccità, possono essere gli attacchi fungini, la pianta diventa molto più resistente. Nell'approccio di progettazione che noi abbiamo applicato in azienda, partendo proprio dall'etica cura delle persone, da una delle tre etiche della progettazione in permacultura, parliamo di cura delle persone. Per un'azienda agricola che produce, fa orticoltura, fa piccoli frutti, fa frutteto, olivicoltura, cura delle persone è inteso come dare la possibilità a un territorio, quello di Gaiola e Inchianti, di avere accesso a cibo sano, nutriente, ma anche, non è solo l'aspetto produttivo, ma è anche l'aspetto di creazione intorno all'azienda agricola di quello che è una comunità, che può essere il rapporto con le aziende agricole confinanti, come vi ho detto prima, riguardo al raccogliere risorse, fare il cippato dalle potature di oliva e delle altre aziende, è anche lo scambio di risorse, anche lo scambio, perché no, sul territorio di conoscenze e di competenze e tutto questo aspetto per noi è stato centrale nel senso di costruire e di inserire l'azienda agricola su quella che è la presenza di una comunità già esistente a Gaiola e Inchianti, che ha una sua storia direttamente legata a quello che era la comunità che deriva dalla mezzatria, in cui, se vogliamo paradossalmente, lo stare a veglia la sera o la raccolta del grano diventerà per noi un discorso anche di creazione di comunità, di coinvolgimento della comunità nella produzione e nella raccolta, della mietitura del grano, che deve essere un recuperare a livello agricolo quel tipo di comunità che prima c'era in questo territorio. Noi abbiamo voluto proprio inserire la progettazione in permacultura sulla specificità del territorio chiantigiano, sulla specificità della storia di questo territorio e quindi è un po' il produrre cibo buono, fare orticoltura è un po' una chiave per entrare nella costruzione di quella comunità ed è in questo senso che noi intendiamo la cura delle persone, people care come etica ed è un approccio che è strettamente legato all'agroecologia, strettamente legato all'agricoltura rigenerativa perché è sempre quella visione sistemica, è sempre quell'approccio sistemico che noi abbiamo all'agricoltura e l'agricoltura, la produzione di cibo è la base anche per l'esistenza di una comunità. Un po' la difficoltà che c'è qui nel Chianti dove noi siamo intervenuti come impresa agricola, come azienda agricola è stato quello del... di fatto nel Chianti si produce solamente vino, in modo sporadico si fa olivicoltura, in realtà diversificare e creare sul territorio la presenza di più aziende agricole che producono anche cose differenti, non solo per l'esportazione ma anche per un mercato locale, anche proprio per quello che è un mercato e un'esigenza locale di produzione di cibo. Quando ho iniziato l'azienda agricola ho fatto proprio un'analisi anche se vogliamo di mercato per andare più nel tecnico, qui ci sono una serie, almeno 50 ristoranti, da Stellati alla Trattoria all'Osteria e ragionare sul fatto che nessuna azienda agricola producesse frutta e verdura localmente, quello era un buco che c'era e ragionare anche sulla comunità, i residenti ma anche il turismo e questo ha portato a un ragionamento rispetto anche all'investimento agricolo, l'investimento che io ho fatto come imprenditore agricolo. Poi certamente quest'anno col Covid cosa è successo? È venuto fuori in modo evidente la fragilità di questo sistema di produzione agricolo che c'è nel territorio perché si sono chiusi dei mercati, perché il vino si vende molto meno. Allora diversificare sul territorio non vuole sembrare presuntuoso però ha un po' l'idea che la scoscesa sia un po' uno stimolo per ragionare su una diversificazione e anche cura della persona è la diversificazione che noi facciamo come produzione. Noi produciamo verdure annuali, le verdure ad orto classiche, facciamo zafferano, asparagi selvatici, asparagi commerciali, legumi, ceci e lenticchie, facciamo lamponi, abbiamo lamponi, uva spina, fragole, cioè abbiamo diversificato moltissimo le nostre produzioni, sicuramente produciamo meno ma produciamo tante diverse cose e questo se vi ricordate quando vi ho detto prima è legato alla costruzione, alla progettazione di un sistema stabile e resiliente. Di fronte a una flessione di un possibile mercato, mi si chiude un mercato o va male una cultura, perché comunque con l'emergenza climatica c'è, cambiamento nelle precipitazioni, una cultura può andare male, non hai una produzione buona di olive, quindi fai meno olio, ma tu hai tutta un'altra serie di produzioni che ti permettono di anche mantenere comunque quel tuo livello o comunque di riuscire a reggere come azienda agricola rispetto a un problema. E tutto questo è strettamente collegato in una visione sistemica con la comunità locale, col fatto di costruire una connessione con le persone che vivono qui. Ed è centrale, perché anche questo è un approccio a mio avviso che estende la visione rigenerativa di un approccio agricolo e estende quello che è il ragionamento sull'agroecologia, cioè che noi siamo parte dell'ecosistema, noi siamo parte integrante di un ecosistema e dobbiamo riuscire a ricreare una serie di connessioni all'interno di questo ecosistema anche a livello sociale e economico. Nella gestione delle uole permanenti a livello di orticoltura stiamo parlando, questo è un esempio del lavoro che noi facciamo unendo l'approccio di agricoltura naturale carriana di cui abbiamo parlato prima. Qui c'era un lotto di fagiolini, i fagiolini vengono tagliati e lasciati a decomporre direttamente sull'aiuola, viene messo una pacciamatura che in questo caso è paglia del nostro grano che è derivato poi dalla trebbiatura che abbiamo fatto quest'anno e viene inoculato con i microrganismi, con l'IMO4 che vi ho fatto vedere prima. Qua magari non si vedrà benissimo, però ci sono tutti attinomiceti, cioè ci sono tutta una serie di batteri, decompositori, ci sono una serie di microrganismi che sotto questa pacciamatura decomporranno le piante di fagiolino e questa uola permanente poi in primavera sarà pronta per essere seminata, trapiantata, dipenderà dal tipo di programmazione che abbiamo fatto e questo è uno degli esempi delle modalità con cui noi lavoriamo sul suolo, con aiuole permanenti, larghi 80 centimetri e tenendo tendenzialmente, cercando di tenere sempre coperto il suolo, con tutte le risorse che noi riusciamo a ottenere dall'azienda, quindi i fagiolini vengono direttamente lasciati sul suolo e la nostra paglia. Allora, come vi avevo già detto all'inizio, uno degli aspetti su cui abbiamo lavorato è sulla gestione dell'acqua. Ora, diventa centrale un approccio agroecologico, a mio avviso, la gestione dell'acqua, perché l'acqua piovana, le precipitazioni stanno cambiando, stanno cambiando proprio il loro pattern che c'è durante l'anno, magari abbiamo eventi più forti e più raccolti in certi periodi. Quindi che cosa succede? Specialmente in un terreno come questo, a livello di progettazione fin dall'inizio, mi sono reso conto del rischio che precipitazioni, eventi di precipitosi, di acqua, che potevano avere un effetto dirompente a livello di erosione, che qui siamo su comunque un terreno che è scosceso, che è terrazzato, mi sono reso conto e questo era un aspetto che andava immediatamente gestito. In progettazione in permacultura noi ragioniamo sul fatto che ogni elemento deve svolgere almeno tre funzioni e quindi ho cominciato a progettare una serie di raccolte di acqua piovana, che sono molto piccole, queste vedete alle mie spalle, è una pozzangra come alcuni miei amici simpaticamente mi hanno detto, è una pozzangra, però che cosa fa? Raccoglie l'acqua piovana e svolge la prima funzione di togliere il rischio di erosione per quelle che sono le precipitazioni, per quelli che sono gli eventi che ci sono, specialmente magari in autunno e sono molto forti, quindi toglie l'erosione. Seconda funzione, nessuno dei nostri bacini è impermeabilizzato, cioè questi bacini servono per raccogliere l'acqua in un punto e infiltrarla. In questo modo il ragionamento che noi abbiamo fatto a livello progettuale, a livello aziendale, poi stiamo vedendo gli effetti, è quello di innalzare la falda dell'acqua, la falda acquifera, perché? Perché noi tendenzialmente applichiamo in agricoltura, dovendo annaffiare, un'estrazione di quella che è la falda acquifera, noi qui abbiamo un pozzo per annaffiare, ovviamente dobbiamo riuscire ad annaffiare le nostre produzioni, allora il mio ragionamento è sempre stato quello di, ok, togliere l'acqua col pozzo, quella che io vado a infiltrare non andrà magari nella stessa falda acquifera, però da un punto di vista anche di approccio all'agricoltura, io sto cercando di infiltrare, rallentare più acqua possibile sul terreno senza raccoglierla e toglierla dal terreno, ma infiltrandola nel suolo. Il suolo è il posto migliore dove contenere, dove trattenere l'acqua, non è tanto il fatto di fare tanti laghi, tanti bacini, ma è il fatto di ricaricare le falde acquifere. Noi come pozzo nell'azienda abbiamo un contatore per la regione toscana, faccio sempre questo esempio, noi abbiamo usato 800.000 litri in due anni, in due anni abbiamo infiltrato 820.000 litri, un conteggio fatto a mano così, però all'incirca 820.000 litri di acqua che è piovuta su questo terreno. Io da un punto di vista di approccio agroecologico ho un bilancio di estrazione di acqua e di infiltrazione di acqua che è in positivo, anzi diventa centrale questa cosa perché questo aspetto ti permette di mitigare anche una serie di effetti che noi abbiamo. Per esempio tutta una serie di bacini hanno dei canali che sono sistemi di irrigazione passiva degli alberi da frutto. Ogni albero da frutto, ogni pianta di lampone o di ribes ha un suo piccolo canale dove c'è poi del cippato, dove c'è la materia organica, l'acqua lì si va a raccogliere, mi si infiltra lentamente e crea uno strato, una spugna che innalza la possibilità della pianta di resistere anche agli stress idrici perché tu gli crei intorno a quella pianta o accanto alle sue radici uno strato che è altamente, ha una grandissima capacità di raccogliere e di trattenere acqua proprio perché c'è sostanza organica. Questo aspetto qui è diventato centrale nella nostra progettazione ed è un qualcosa che diventerebbe centrale a mio avviso sempre più un ragionamento di questo genere non solo aziendale ma territoriale. Se noi cominciassimo a ragionare sulla gestione dell'acqua piovana proprio perché siamo in territori che hanno rischi idrogeologici altissimi, di erosione, porterebbe al fatto di ragionare su un territorio come questo e quello di Gaiole e di cominciare a ragionare sul fatto che l'acqua piovana è una risorsa inestimabile. Tendenzialmente noi oggi incanagliamo l'acqua e la portiamo via. Prima va al mare e meglio è. In realtà noi dovremmo trattenerla. Più la tratteniamo a monte nel nostro sistema, infatti noi abbiamo moltissimi bacini nella nostra azienda agricola che sono in alto, più in alto possibile. Perché? Perché l'azienda agricola è a metà costa di una collina, tutto il terreno sovrastante del mio vicino di terreno è un'oliveta, tutta l'acqua che scorre sulla sua oliveta, entra, passa sul terreno della scoscesa e appena entra nel terreno della scoscesa viene regimata con questi piccoli bacini, uno di questi che vedete alle mie spalle, e viene suddivisa in vari bacini lungo il terreno e in questo modo noi abbiamo un effetto che è moltiplicatore della fertilità perché anche il fatto di accumulare acqua nel suolo dà la possibilità a microrganismi, a batteri e a funghi di vivere meglio. Proprio nell'approccio sistemico alla nostra azienda, qui è ben visibile, sono ben visibili alcuni, l'integrazione di alcuni sistemi differenti. Qui vedete, si vedono tutte le terrazze, queste sono 29 terrazze su cui noi coltiviamo, in cui noi abbiamo la presenza di alberi d'olivo, questo è un impianto vecchio, quindi gli alberi d'olivo sono anche a 10-12 metri l'uno dall'altro, allora l'idea nella progettazione è stata quella di inserire fra gli alberi d'olivo il frutteto, per cui abbiamo un sistema agroforestale sul muro della terrazza e fra muro sulla terrazza, proprio sulla parte della terrazza in orizzontale abbiamo le colture a pieno campo, in questo caso abbiamo il grano, sotto abbiamo dei sovesci, verranno poi piantati a marzo ceci, lenticchie e via a scendere fino ad arrivare in fondo dove abbiamo proprio un'altra parte di orto con le uole permanenti. Ora l'approccio che noi abbiamo applicato è quello agroforestale di avere una fascia di 1-2 metri larga dove noi abbiamo gli alberi da frutto e gli olivi che vengono gestiti con un taglio dell'erba, viene gestito tutto il sistema, con accanto però la produzione annuale o la produzione perenne che noi abbiamo. In questo modo integriamo, da un punto di vista per chi di noi è diciamo toscano, questa è la riapplicazione con un sistema agroecologico, quindi con tecniche contemporanee, di quella che era la cultura promiscua tipica mezzadrile toscana. Semplicemente è ragionare sul fatto di, nello stessa porzione di terreno, di suolo che noi andiamo a coltivare, avere più colture mischiate in cui di fatto vai a sfruttare anche diversi livelli per cui un albero si sviluppa in altezza, il grano ti occuperà tutta la parte in orizzontale del terreno e se volessimo rendere più complesso il sistema l'inserimento anche di un pascolamento razionale con degli animali chiuderebbe il sistema anche come fertilizzazione diretta con la presenza degli animali che pascolando ruotano sulle varie terrazze. Qui è ben visibile perché tu hai un anche qui hai un paesaggio che ti definisce questo aspetto, perché passando da una terrazza all'altra, passando da un microclima all'altra, da un tipo di esposizione differente all'altra, hai un sistema che si sviluppa lungo la collina. In questo modo, ora gli alberi da frutto sono senza foglie, sono stati trattati un anno fa, due anni fa e quindi lentamente comincerà a costruirsi questa specie di alberata che noi avremo qua sul muro e al suo interno di qua avremo quella che è la coltivazione, in questo caso come si vede qua il grano. E' un sistema in cui noi stiamo integrando le nostre coltivazioni, è un sistema che per certi versi all'interno della Regione Toscana non è innovativo, ma per la Regione Toscana come interventi di sostegno all'agricoltura lo è. E sicuramente un'interlocuzione con la Regione Toscana su questo tipo di approccio renderebbe molto più facile per chi vuole fare questi interventi il fatto di riuscire a implementarli anche se sostenuto. ... Grazie.